Chi è? Che succede? Ma come è giusto ora che ero medesimato? Che c'è? Ma come? Io pago sempre tutte cose, poi pago la luce, la bolletta della luce, la bolletta del gas, la bolletta dell'acqua! Ti spegno o ti accendi? Vabbè ho capito, devo salire, ecco qua. Mai un premio mi hanno dato, sono stato sempre... Sì, sì, sì. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti